Pesanti minacce di morte e offese al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, rivolte alla vigilia del Natale. Sono quelle che per ore sono rimaste pubblicate sulla pagina Facebook Viareggio Mia, firmate da un cittadino e giornalista viareggino. Parole di inusitata violenza verbale, digitate a commento di un post del primo cittadino, ricondiviso da un utente sul gruppo pubblico, in cui criticava l'esito delle recenti elezioni provinciali dalle quali è risultata esclusa a Viareggio. È stato lo stesso Del Ghingaro poi a ripubblicare sulla sua bacheca le parole incriminate, aggiungendo «Diciamo che questo signore poteva fare meglio, io provo vergogna, non so voi». Per il momento il sindaco non ha fatto sapere se sporgerà denuncia, ma intanto sono arrivati messaggi di solidarietà dalla Giunta e dai consiglieri comunali di maggioranza, che scrivono «Stavolta si travalica non solo il buon gusto, ma anche la legalità». Solidale con il sindaco anche il senatore Viareggio del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ferrara, che parla di un clima di odio che deve diradarsi al più presto. Nel pomeriggio sono arrivate le scuse pubbliche dell'autore della frase minatoria, sullo stesso gruppo dove l'aveva pubblicata. «Chiedo scusa, è stato un errore», ha scritto, ma la frase non era rivolta a Del Ghingaro né a nessun altro. Si sarebbe trattato, scrive, di un testo per una scena di violenza. Scusa arrivate puntuali, ma probabilmente troppo tardi, quando ormai il caso era scoppiato, provocando indignazione e incredulità nella rete e in città.